se sai scavare nel passato nel 91 non c'era l'archivio informatico ma ora si la verità è ancora lì un solo colpo alla schiena con una 22 pronta ad attenderti dov'eri quando laura fu uccisa volevo solo aiutarla in prima visione su fox crime cool case sesta stagione dal 16 novembre su fox crime